Quando facevo da assistente in bottega, tenevo interi fascicoli con le preferenze di centinaia di clienti. Materiali, lunghezza degli urli, anche il numero di bottoni sui polsini. I documenti della Rhode Island non potranno essere più complicati di… Aspetta, sono così tanti! La fibbia viene da una bancarella di carnevale, mentre la cintura è un mio vecchio metro da sarto. La forcina è stata personalizzata con un ago in fila perle. Il motivo che vedi l'ho ricamato io stesso. Troppo vistoso? Per tua informazione, questa è l'apoteosi della moda di Siracusa. Ti conviene stare al passo coi tempi? La satoria non è male. Sai, ho due cari amici. Uno è andato all'accademia di polizia, mentre l'altro si è unito a una famiglia. Da allora non si sono più rivolti alla parola. Comunque, alla bottega sono entrambi i miei clienti. Vengono da me quando vogliono farsi fare degli abiti. Il nonno mi raccontava storie di ogni tipo, in modo che non mi annoiassi alla bottega. Le ho sentite per così tanto tempo che ormai le conosco come le mie tasche. È impossibile che io creda a... Cavoli! Doc, è appena passata una bambola fluttuante. Non l'hai vista? No, 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 non sto scherzando! Tanto tempo fa volevo unirmi all'elite di Siracusa, ma mio nonno mi insegnò solo come tenere in mano un righello e un paio di forbici. Nonostante questo, mi bastarono questi due strumenti per guadagnarmi il rispetto di molti e di loro. Ho ancora tanto da imparare e, per adesso, voglio dedicarmi a dei nuovi vestiti. Pensavo che la fine del carnevale fosse crudele quanto le vecchie fiabe di Siracusa, ma quando è arrivata la mezzanotte e i fuochi d'artificio sono esplosi in cielo, tutti hanno festeggiato in armonia. Immagino che sia questa la giusta conclusione di una storia. Se a Siracusa verranno ancora raccontate, saranno in questo modo. Va tutto bene, posso occuparmene io di queste lettere. Vedi, sono da parte dei nostri vicini, che sono clienti affezionati di Montano. Anche se sanno che il nonno non c'è più, continuano a mandare i loro saluti alla bottega. Forse era questo che intendeva con farsi un buon nome. Doc, non hai dormito bene? Hai le borse sotto gli occhi? Perché non prendi una pagina dal mio libro e non usi dell'ombretto per sembrare meno addormentato? Come non detto. Sembra il tipo che non si riposa mai abbastanza, ma che può rimettersi in sesto quando il gioco si fa duro. Vorrà dire che terrò i trucchi per me. Prima piega quest'angolo, poi giraci intorno due volte in questo modo e come ultima cosa fatti il nodo intorno al collo. Ops, la sciarpa non è abbinata ai tuoi vestiti. E se ti facessi un bel completo in stile siracusano? Non mi richiederà particolare impegno, quindi puoi anche dirmi di sì. Questo filo va qui e quest'altro qui. Mi ha fatto di nuovo confusione. Che c'è? Non hai mai visto un sarto imbrogliarsi con i fili? Qui è dove fare rapporto, giusto? Ah, le mie scuose sono venuto senza cambiarmi d'abito. Ah, non ce n'era bisogno? Grazie a cielo, mi sento più a mio agio con indosso abiti che conosco. Eh, non può essere più complicato della sartoria? Apprezzo il pensiero, ma non c'era bisogno di scomodarsi tanto solo per trattarmi come un bambino. Oh, con questa seconda promozione potrò finalmente agire di mia iniziativa. Fidati, sono in grado di gestire le operazioni sul campo. Elaborare strategie? Ok, posso farcela. Nulla che non possa gestire. È come infilare il filo nel lago. Un controllo ai vestiti e si parte. Ah, che clienti difficili. Cerchi uno stile in particolare? Cerchi un tessuto in particolare? È ora di prendere le misure. Il mio ago è pronto. Ah, un ottimo tessuto sprecato così. Ah, che gusti discutibili. Non muoverti mentre prendo le misure. Tieni la schiena dritta. Chi ti ha detto di cadere a terra? Una cucitura perfetta. Una tattica fatta su misura per la battaglia di oggi. Grazie al cielo abbiamo concluso la missione. Perché qui c'è un filo sciolto? Non preoccuparti. È normale sprecare dei materiali quando si realizza un vestito. Ah, e dove posso conservare i miei strumenti? Va bene, va bene. Sono concentrato. Dottore, per caso hai deciso per quale stile optare? Ark Knights. Oh, Doc! Oggi ti sei vestito all'ultimo grido. Ti vesti sempre così? Beh, allora rinnovo i miei complimenti.